Oggi si festeggia l'Europa, ma questa Europa deve cambiare, così come non ci piace. Innanzitutto non ci piace come è governato l'euro, bisogna cambiare le norme che regolano i comportamenti della Banca Centrale Europea. L'euro oggi è troppo forte, l'inflazione ha livelli troppo bassi, ecco perché serve stampare moneta e serve in alcuni casi anche svalutare. Ci batteremo perché la Banca Centrale Europea possa trasformarsi in una vera banca centrale, con tutti i poteri necessari ad aiutare l'economia, ad aiutare la crescita.